Quando Heidegger andrà poi a studiare effettivamente le caratteristiche concrete dell'esistenza umana, di questo modo d'essere tipico dell'esserci, userà il termine esistenziali. Quando in Heidegger, in essere tempo, troviamo impiegato il termine esistenziali, ci stiamo riferendo alle strutture di fondo di quel particolare modo d'essere che è l'esistenza. Quindi gli esistenziali nel linguaggio heideggeriano sono le strutture fondamentali, le caratteristiche fondamentali dell'esistenza. Il primo carattere di fondo studiato da Heidegger è quello che lui chiama essere nel mondo. Lo scrive con i trattini, essere, trattino nel, trattino mondo, proprio a indicare che si tratta di una struttura, come dire, unitaria. Cioè esistere, per l'essere umano, significa innanzitutto essere nel mondo. Che cosa vuol dire essere nel mondo? Vuol dire che innanzitutto e per lo più, cioè in generale, l'essere umano entra in rapporto con le cose, con gli esseri che trova nel mondo, attraverso un rapporto di utilizzabilità. Cioè, se devo descrivere come si presentano originariamente le cose per la mia esistenza all'interno appunto del mondo, cioè di quell'orizzonte in cui io mi trovo, le cose compaiono innanzitutto come degli strumenti, come degli esseri utilizzabili. Io mi rapporto alla penna, che è uno strumento che serve per scrivere. Mi rapporto al foglio, che è uno strumento su cui posso scrivere. Al computer, che è uno strumento che io posso usare. All'automobile, che è uno strumento per spostarsi. Ai vestiti, che sono degli strumenti per vestirsi. Al fiore, che è utilizzabile perché esprime una finalità estetica. Cioè, il rapporto originario dell'essere umano, dell'esserci, con gli enti, con le cose che trova nel mondo, è caratterizzato dall'utilizzabilità. Il commercio intramondano, dice Heidegger, cioè la relazione, il tipo di relazione che l'esserci, che l'essere umano svolge nei confronti delle cose, è un rapporto di manipolazione, è un rapporto di prendere le cose, di usarle come strumenti per i miei fini. Quindi le cose non sono mai, originariamente, innanzitutto e per lo più, degli strumenti neutri, che io posso indagare, che posso studiare con un'indagine teoretica astratta, come fa la scienza, o come ha fatto tante volte anche la filosofia. Perché le cose, innanzitutto e per lo più, in questo modo generale, sono degli strumenti, cioè rispondono a una utilizzabilità, sono degli utilizzabili, rispondono a dei fini, a degli scopi con cui ho a che fare. Mi servo delle cose, la mia esistenza si svolge servendosi delle cose, impiegando le cose. Le cose, allo stesso tempo, come strumenti, non sono mai delle cose slegate, indipendenti le une dalle altre, ma funzionano come dei segni, cioè la struttura di fondo delle cose, che compare all'interno dell'esistenza, è quella delle cose come dei segni, cioè le cose tendono a rimandarsi tra di loro. Facciamo un esempio. Se io voglio scrivere, inizio a intrattenere un rapporto con la penna, che è un strumento per scrivere, quindi la penna risponde a questa strumentalità, a questa utilizzabilità che io sperimento nella mia esistenza. Ma la penna, come strumento che serve per scrivere, non sta mai da sola, ma si rapporta al foglio su cui sto scrivendo. Il foglio, a sua volta, si rapporterà al tavolo, perché è ciò su cui io mi sto appoggiando per scrivere. Il tavolo si rapporterà alla lampada, che mi fa luce mentre scrivo. Il tavolo con la lampada si rapporta alla stanza, e così via dicendo. Cioè le cose hanno, nel contesto del mondo, nel contesto dell'esistenza, hanno la struttura di un rimando, cioè sono come dei segni che rimandano tra di loro. La penna rimanda al foglio di carta, che rimanda al tavolo, che rimanda alla lampada, che rimanda nella stanza. Il mondo, grazie a questa struttura di segno propria delle cose, assume la configurazione di una trama di rimandi. Cioè come una rete costituita da tutte quelle relazioni, come una sorta di ragnatela, diciamo così, costituita da quella trama di relazioni che le cose intrattengono tra di loro. Qual è il punto centrale, l'apice, il vertice, no, di questa rete di rimandi? È l'esserci, dice Heidegger, è l'essere umano. Perché è dal momento che io, come esserci, come essere umano, siccome progetto la mia esistenza, quindi intrattengo questo rapporto di commercio intramondano con le cose, mi servo delle cose, le impiego per i miei scopi, e quindi è in funzione dell'essere umano e della sua esistenza che le cose intrattengono questa trama di rimandi, vengono a delineare questa sorta di gigantesca ragnatela caratterizzata dai rimandi delle cose, delle cose che hanno tra di loro. Chiaramente, in questo caso, quando stiamo parlando del mondo, non stiamo parlando del mondo da un punto di vista fisico, come se fosse il pianeta Terra, ma il mondo, in questo senso, nell'ottica di Heidegger, è un'esistenziale, cioè è una struttura, una dimensione della mia esistenza. La mia esistenza si mostra, si realizza, sviluppandosi nel mondo, cioè nel contesto di un ambiente in cui le cose sono accessibili a me, sono degli strumenti, sono delle potenzialità, delle possibilità di azione, diciamo così, con cui io posso interfacciarmi per realizzare il mio progetto esistenziale. Quel progetto in cui ne va di me, dice Heidegger, in cui devo costruire la mia vita, in cui devo dare un senso alla mia esistenza. L'esserci in quanto ha da essere, dice Heidegger, in quanto deve progettare chi è lui, deve costruire, deve venire alle mani, deve prendere in mano la sua esistenza. Accanto poi all'essere nel mondo, che è la struttura di base dell'esistenza, possiamo ricordare altri caratteri, come l'essere con gli altri, cioè l'esistenza umana non si sviluppa mai in modo isolato, ma sempre intrattenendo rapporti con gli altri esseri umani. Oppure un altro carattere molto importante è la situazione emotiva, cioè il mio essere nel mondo non avviene mai, come dire, in modo neutro, asettico, ma è sempre connotato da una particolare disposizione emotiva. Questo aspetto, che forse nella storia del pensiero è stato spesso trascurato, in un'analisi dell'esistenza che voglia avere un taglio fenomenologico, cioè voglia essere scevra da qualsiasi presupposto, invece balza agli occhi. L'esistenza assume sempre una tonalità emotiva di fondo. Uno dei caratteri poi principali a questo livello è la dimensione della comprensione, cioè l'essere umano, essendo nel mondo, sviluppando la sua esistenza nel mondo, è un essere che è portato a comprendere, cioè è capace di comprendere le cose, di comprendere il significato delle cose. E a questo livello Heidegger sviluppa una tematica interessante, ripresa dagli studi poi dell'ermeneutica, perché viene ad anticipare, viene ad elineare quello che gli autori dell'ermeneutica chiamano circolo ermeneutico. Cioè la comprensione, secondo Heidegger, non è mai un partire da zero. La mente dell'uomo, o meglio l'uomo in quanto esistente, non è mai una tabula rasa. Cioè non è che parto da zero comprendendo le cose, ma metto sempre progressivamente a fuoco, attraverso la mia comprensione, dei significati vaghi e confusi che però io già possiedo. Cioè per il fatto di appartenere a un mondo, di trovarmi in un mondo, la mia esistenza ha sempre a che fare con delle cose, quindi ha già sempre una precomprensione. C'è una comprensione media, vaga, confusa di quello che sono le cose. E quando io le comprendo, quando io le, come dire, approfondisco il loro significato, non faccio altro, dice Heidegger, che mettere a fuoco, cioè non faccio altro che elaborare questa precomprensione che è già possibile. Facciamo un esempio. Se io voglio, che non è di Heidegger, se voglio studiare botanica, mi occuperò dei fiori e delle piante. Però non è che quando studio botanica è la prima volta in assoluto che sento parlare dei fiori e delle piante, perché quando ero piccolo ho già portato un fiore a mia mamma, ho portato un mazzo di fiori a una ragazza, ho portato le piante del mio giardino. Quindi siccome dall'origine, in quanto sono un essere esistente, ho sempre avuto a che fare con le cose, con gli alberi, con i fiori, avevo già una precomprensione, cioè avevo già un insieme di significati, magari confusi, magari impliciti, che però quando ho dovuto comprendere, in questo caso scientificamente, perché ho studiato biologia, qual era la struttura dei fiori, non sono partito da zero, ma ho messo a fuoco, ho messo in gioco, ho continuato a elaborare quella comprensione che già possedevo, in quanto caratterizzava la mia precomprensione, cioè quelle conoscenze medie di base che nel corso della mia esistenza ho sviluppato, in quanto da sempre ero un essere nel mondo. Avevo già quindi un equipaggiamento di base della mia conoscenza e la mia comprensione è sempre una messa a fuoco di questa precomprensione che mi caratterizza già in quanto essere nel mondo. A questo punto, delineate le prime, queste strutture di fondo dell'esistenza, questi esistenziali, Heidegger farà un passo ulteriore andando a elaborare il concetto di cura. Parlando di cura, Heidegger vuole indicare la struttura fondamentale, la struttura di fondo dell'esistenza, cioè abbiamo parlato adesso dell'essere nel mondo, della situazione emotiva, dell'essere con gli altri, della comprensione, al di sotto di queste strutture c'è una struttura più originaria, fondamentale, che Heidegger caratterizza con il termine cura. È la struttura di fondo, lo scheletro, possiamo dire così, la struttura di fondo dell'esistenza. È la cura. E la cura, secondo Heidegger, si articola in tre momenti, in tre dimensioni fondamentali. La prima dimensione è quella che Heidegger chiama gettatezza, cioè l'essere umano non ha scelto, non ha deciso di esistere, ma si trova a essere, si trova gettato nell'esistenza. Io non ho deciso di essere, non mi sono posto da me nell'esistenza, ma mi trovo, mi scopro a essere, mi trovo gettato nell'esistenza senza averlo voluto, senza averlo scelto. Questa condizione per cui io mi trovo a essere, non mi sono posto io l'esistenza, non mi sono dato io l'esistenza, non mi sono creato io ma mi trovo a essere, è quella dimensione che Heidegger chiama gettatezza, la prima dimensione della cura. Una seconda dimensione invece è la dimensione della decisione della scelta. L'esserci prende delle scelte, assume delle decisioni, e questa è una seconda dimensione altrettanto fondamentale dell'esistenza. La terza e ultima dimensione della cura è chiamata da Heidegger il progetto, la progettualità, cioè l'esserci, l'essere umano, progetta la propria esistenza. Diciamo prima io ho da essere, cioè non sono come il libro che è un libro da quando è stato prodotto fino a quando verrà distrutto, cioè è un libro e basta, io invece progetto la mia esistenza, devo scegliere chi essere e in questo ho in mente un progetto che si sviluppa nel corso del tempo. Queste tre dimensioni, gettatezza, mi trovo a essere, non l'ho voluto, mi trovo a essere, mi scopro esistente, la decisione, assumo delle scelte, assumo delle decisioni e la progettualità, cioè mi progetto, proietto nel futuro la mia esistenza, chi voglio essere, quel modello d'essere che voglio seguire, costituiscono insieme la struttura fondamentale della cura, cioè la struttura fondamentale, la struttura di base dell'esistenza, dell'esserci. Grazie.